ciao amici di youtube benvenuti ad un nuovo unboxing e l'acquisto fatto riguarda una macchina del caffè macchina espresso ganja carezza deluxe l'acquisto è stato fatto sul sito mind store un sito che non avevo mai provato e che ho deciso di provare perché aveva il prezzo più conveniente e su questa macchinetta in particolare il prezzo pagato è di totale compresa la spedizione di 167 euro e 90 questo è il pacco che è capitato dal furiere tmt e la spedizione è venuta in tre giorni dall'ordine apriamolo un pollo che ci ringrazio per la spedizione un pollo che ci ringrazio per la spedizione questo è il coperchio no è la base della macchina e questa è la macchinetta ho acquistato questa macchinetta perché ho letto buone recensioni su questa macchinetta quindi dovrebbe fare un buon caffè prossimamente magari faremo un video per far vedere come viene quindi sulla qualità della macchinetta il materiale sembra buono resistente qui ci sono gli accessori quindi la macchinetta il materiale è la pressa di alimentazione e il cucchiaino infine c'è il manuale di istruzioni come vedete il prodotto è arrivato in perfetto stato per oggi è tutto più avanti faremo un video su recensiremo insomma questo prodotto al prossimo mattino al prossimo mattino grazie grazie